E' un lento abbandono che inizia subito dopo la fine dell'ultima guerra mondiale. L'azione dell'uomo ha giocato un ruolo importante sul trasferimento di ben e l'altro. Com'era la vita a Pente d'Attilo quando ancora era abitato normalmente? Era soprattutto bella. L'atmosfera di Antico, il silenzio rotto solo dal vento che corre e urla tra i vicoli deserti, la sensazione di misteriosa solitudine rendono Pente d'Attilo un borgo ancora più affascinante e magico. L'azione dell'uomo ha giocato un ruolo importante sul trasferimento di ben e l'altro. L'azione dell'uomo ha giocato un ruolo importante sul trasferimento di ben e l'altro. L'azione dell'uomo ha giocato un ruolo importante sul trasferimento di ben e l'altro. L'azione dell'uomo ha giocato un ruolo importante sul trasferimento di ben e l'altro.